Se lo desideri, vorresti che ti portassi via In un luogo dove i desideri si avverano Cosa stai facendo qui a quest'ora? Per caso hai dimenticato qualcosa a casa mia? Recitavo battute di un copione È una recita che vorrei proporre quando riaprirà il club di teatro Questo è il posto dove provo sempre E dato che sei venuto fin qui, ho voluto mostrartela Ah, sì, non so proprio quanto posso fare Però proverò a fare del mio meglio Ciao Ecco, Kazakiku Sei venuto tardi anche oggi Ecco, penso che tu debba venire a scuola ogni giorno in orario Non è come Io sono la capoclasse Oh? Oh? Da bene, non sto piangendo Allora predirò il tuo futuro per domani Predire il futuro è il mio hobby Okazakiku Verrai in ritardo anche domani È quello che dicono le carte Penso che funzionino così Nel venire a scuola avrai un incontro romantico con una bella ragazza Non ti accorgerai del tempo che passa, quindi arriverai in ritardo No, questo è intuito femminile Eh?